bella a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video da gabri delle vi ricordo di lasciare subito un bel mi piace iscrivetevi al canale mi raccomando e condividete questo video con tutti i vostri amici un'altra cosa molto importante è supportare nel negozio oggetti col mio codice creatore che vedete sullo schermo g1 meno gabri delle meno yt grazie a tutti quanti partecipate tutti i giorni server privati alla sfilata al nascondino e ai ricchi premi che faccio per gli iscritti iscrivetevi al canale non costa nulla mi raccomando ma banda alle ciance adesso parliamo della skin che hanno messo gratis come rimborso andiamo subito a vedere che cosa dovete fare dovete andare qui nell'impostazione di gioco dovete andare qui sull'ultima opzione e fate inoltre una richiesta come potete vedere la epic ha dato un altro rimborso perché massimo sono 31 all'anno per tre anni quindi tre volte in tre anni dovete magari mettere non so mettete acquisto involontario puoi davvero restituire questo oggetto restituire questo oggetto non consumerà una richiesta di reso ovviamente ragazzuoli questa cosa è gratis dovete avere la skin anche voi ci vediamo il prossimo video bella a tutti ragazzi